Il secondo gigante del Gran Premio d'Italia Dicoflor, Famiglia Cooperativa Folgaria Vattaro Cup, organizzato dallo Schi-Team Alpecimbra sulla pista agonistica a fondo grande di Folgaria, si è disputato su neve umida, che è stata trattata e ha richiesto un lavoro di allestimento importante, garantito dall'impegno indispensabile di Folgaria Schi, dalla professionalità di tutti gli operatori in pista, atleti e allenatori compresi. Francesca Fanti si riconferma prima assoluta su 97 concorrenti con un tempo di 2 minuti, 1 secondo e 70 centesimi. Con il pettorale 6 stacca il miglior tempo in prima manche, pari a 58 secondi e 92 centesimi, e scia una seconda indisturbata da Francesca Carolli, che con il pettorale 3 arriva a quarta in prima a 89 centesimi ed esce in seconda al cambio di pendenza sul tratto finale della pista, a poche porte dal traguardo, e da Laura Steinmeier, che con il pettorale 13 arriva lunga a una porta sul muro, quindi è costretta al ritiro e non concretizza il terzo posto guadagnato in prima manche a 88 centesimi. La neozelandese Piera Hudson, pettorale 4, non scia una seconda manche performante e dal secondo tempo a 52 centesimi conclude la gara al quindicesimo posto a un secondo e 48 centesimi, mentre la tedesca Janna Fritz, che indossa il pettorale 5, recupera tre posizioni e finisce seconda assoluta a 42 centesimi. Margherita Cecere, pettorale 19 e 25esima in prima manche a 2 secondi e 97 centesimi, dopo aver sciato una seconda da leader di classifica facendo tesoro di una pista fresca, fa un recupero eccezionale di 22 posizioni. Con il miglior tempo in seconda manche di 1 minuto 00 e 46 centesimi, 2 secondi e 32 più veloce della Fanti, conclude terza a 65 centesimi, quando raddoppia un altro primo posto nella categoria giovani. Rebecca Iancova, con il pettorale 12, segue Margherita in classifica giovani, recupera 6 posizioni e conclude la gara a quinta assoluta a 87 centesimi, partendo dall'undicesimo posto firmato in prima manche. La terza sul podio giovani è Emma Wieser, che con il pettorale 2 perde una posizione e conclude ottava assoluta a 99 centesimi, seguita da Beatrice Rosca, pettorale 15, in nona assoluta a 1 secondo e 20, a pari merito con l'austriaca Yvonne Gadola, pettorale 23. Marta Giaretta, ventitresima in prima manche, con il pettorale 58, vince la categoria aspiranti concludendo la gara in tredicesima posizione assoluta, a 1 secondo e 45 centesimi. Manca al confronto Nadine Trocker, diciassettesima alla prima cronometrata, con il pettorale 42, cade sul muro dell'agonistica. Camilla Vanni, seconda aspirante e unica della classe 2006 sul podio, con il pettorale 31 perde due posizioni e conclude diciottesima assoluta a 2 secondi e 4 centesimi, mentre la terza piazza è di Selina Trafoyer, che dalla trentaduesimo posto in prima manche conclude in ventisettesima assoluta a 4 secondi e 97 centesimi, indossando il pettorale numero 48. Grazie a tutti.